Buongiorno, buongiorno, buona gara ragazzi, buona gara, buona gara e arrivederci. Buongiorno, 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 buongior Grazie a tutti. 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 Ah, ci ha provato. Ci ha provato, non sono riuscito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Saranno adesso. Saranno adesso partiti 3 o 4. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Good idea a tutti. Grazie 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 a tutti 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 Grazie a tutti